La polizia locale di Casale Monferrato ha identificato l'autore di una manomissione delle telecamere in piazza Mazzini avvenuta per ben due volte. Si tratta di un trentottenne residente a Casale, persona già conosciuta alle forze dell'ordine, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Trenone di Vercelli per il reato di interruzione del pubblico servizio. L'uomo, la sera del 16 agosto, dopo essere serampicato tra l'altro a un'altezza non piccola di circa 4 metri, era riuscito a manomettere due delle tre telecamere di videosorveglianza che erano posizionate, che sono anzi posizionate all'incrosso tra via Saffi e piazza Mazzini, proprio nel cuore di Casale. Poi le telecamere erano state manomesse ulteriormente perché, dopo essere state ripristinate, l'uomo ha ripetuto la stessa operazione nella serata del 21 agosto. La ripresa parziale effettuata dalle apparchiature prima che venisse spostato verso l'alto il loro visore ha permesso l'acquisizione di elementi utili e quindi a identificare alla giustizia l'uomo che è stato così appunto denunciato a piede libero.